Mr. Cortiula rientrato dalla squalifica nel palcoscenico più importante per questa categoria di eccellenza comunque deve essere una bella emozione anche per un allenatore poter scendere le scalette della panchina del Rocco magari lei auspicava a un risultato finale un po' diverso intanto voglio fare complimenti a voi perché avete un'organizzazione importante io sono 20 anni che sono in dilettante anche a un buon livello perché ho fatto sempre eccellenza e promozione non è una cosa abituale trovare una cosa del genere è bello e gratificante anche per i miei ragazzi venire qua vedere un contesto così bello poi per quanto riguarda invece la domenica non abbiamo fatto una gita abbiamo fatto una trasferta volevamo cercare di fare dei punti complimenti alla Triestina per il primo tempo però ho un rammarico grande perché il gol all'ultimo minuto del primo tempo ci ha fatto saltare un po' i piani anche perché nella ripresa abbiamo cercato di giocare alla pari abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni per poter portare a casa la gara l'ultimo gol all'ultimo minuto in contropiede non sto a giustificarlo perché eravamo tutti avanti per cercare l'1-1, 1-0, 2-0 cambia poco comunque è una gemonese che si dimostra squadra di categoria, di caratura squadra che può dar fastidio a tutti insomma venivate da un ottimo periodo di campionato adesso ci sarà la prossima trasferta a Tolmezzo insomma dura anche per questioni di campanile, climatiche possiamo dire così però è una gemonese che anche oggi ha dimostrato di avere i numeri per piazzarsi bene in classifica ma è una crescita costante del nostro gruppo perché noi stiamo crescendo ogni anno di più in compassevolezza dei ragazzi per me è importante averli visti oggi lottare cercare di riuscire di portare a casa il risultato senza fare né barricate né niente nonostante il gran impeto dei primi 20 minuti della Triestina secondo me stavamo uscendo noi ripeto, peccato per quel gol e peccato perché prima Rossi ha avuto una grande occasione per andare in vantaggio comunque questo non giustifica che la Triestina oggi non abbia meritato di vincere mi ha rubato le parole di bocca perché stavo proprio pensando a quell'azione al quinto minuto col piattone al volo insomma che è finito alto di poco secondo me se lì cambia, finisce gol, cambia la partita esatto, nel calcio ci sono anche gli episodi che fanno la differenza ogni tanto come ti dicevo prima, riuscire ad andare sullo 0-0 a fine del primo tempo con tutto quello che aveva speso la Triestina e noi sicuramente avevamo qualche arma in più forse nella freschezza del secondo tempo avremmo potuto prenderli anche con qualche ripartenza erano andati in vantaggio, si sono messi lì hanno girato bene la palla sono in ottima condizione abbiamo cercato di pareggiare non ho niente da riproverare ai miei ragazzi voglio solo fargli i complimenti perché abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo fatto la nostra buona figura secondo me ultimissima battuta doverosa poi la lasciamo tranquillo sapere un attimo le condizioni di Candusio perché l'incidente lì sul momento è stato parecchio delicato è stata una zuccata sai benissimo che quando si tocca la testa non si sa mai cosa può succedere comunque vorrei tranquillizzare tutti perché sembra sembra sia andato in ospedale solo per una prassi che bisogna fare l'attack per controllo ma sembra sia tutto a posto mi auguro perché meriterebbe è già un ragazzo che ha avuto diverse disavventure non meriterebbe un'ulteriore sfortuna possiamo rimanere tranquilli quindi ma secondo me sì comunque è giusto che ci siano tutte queste cose e approfitto di nuovo anche per ringraziare lo staff tecnico e medico vostro per la pronta e immediata disponibilità grazie comunque a tutti grazie mille a lei mister poi quando si tratta di contrasti aerei di colpi in testa per forza di cose non bisogna scherzare grazie mille mister tutto fortuito cose che possono succedere del calcio però complimenti per la tempestività complimenti per come vi siete mosci e complimenti e basta beh direi che insomma complimenti è comunque un bel modo per finire un'intervista grazie mister in bocca a lui anche a voi arrivederci ciao 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 ciao